Se hai acquistato BTP nel corso degli ultimi anni, è molto probabile che abbia sentito parlare periodicamente del rischio emittente, cioè del rischio che il nostro paese possa non rimborsare in tutto e in parte le obbligazioni che hai sottoscritto. Anche se non sei un investitore diretto in BTP italiani ma ti interessi un po' di economia, sicuramente più di una volta hai letto contenuti che parlano di un possibile default dell'Italia. Nel video di oggi vorrei proprio concentrarmi su questo aspetto e nello specifico vorrei vedere quali sono i rischi connessi ai BTP, quali sono i problemi strutturali che portano gli esperti a prevedere scenari, se vogliamo, apocalittici per il nostro paese e quanto è probabile un default, cioè quanto è probabile che tutto questo possa avvenire davvero. Come di consueto non farò mancare le mie opinioni e alla fine proverò anche a dirti quello che secondo me dovresti fare se in qualche modo ti senti toccato dallo scenario che andiamo a vedere insieme. Giusto un attimo di attenzione, se stai guardando questo video è perché stai cercando di capire qualcosa in più in generale sulla gestione del tuo patrimonio. Come faccio a saperlo? Mi chiamo Davide Marciano e sono il cofondatore di Affari Miei. A partire dal 2014 con la nostra attività guidiamo gli investitori che vogliono prendere il controllo del proprio denaro a farlo in maniera efficiente. Abbiamo dire che siamo i difensori del patrimonio dei nostri clienti perché in maniera assolutamente indipendente ti spieghiamo tutto quello che la grande industria finanziaria ti ha tenuto nascosto da sempre e ti aiutiamo a capire come devi gestire veramente il tuo patrimonio da protagonista senza doverti fidare ciecamente del primo che passa. Se ti interessano contenuti di questo tipo ti invito a iscriverti al canale YouTube cliccando il tasto che trovi qui in basso e attivando la campanella delle notifiche. In questo modo YouTube ti avviserà quando pubblicheremo nuovi contenuti. Se vuoi supportarci in generale ti invito a schiacciare un bel pollice verso l'alto. Last but not least se vuoi capire subito come iniziare a investire in autonomia qui in descrizione trovi un report con 3 TF diversificati scelti dal Centro Studi e Ricerche di Affari Miei che ti farà un po' da introduzione nel mondo della gestione individuale e autonoma del tuo denaro. Possiamo chiudere questa breve interruzione e tornare al merito del nostro video. Ci vediamo subito dopo la sigla. Brevemente quali sono i rischi principali di un BTP? Ci sono tre categorie di rischi. Il rischio volatilità, il rischio tasso di interesse e il rischio emittente. Per quanto sia il rischio emittente quello più legato in generale alle difficoltà economiche di un paese in realtà anche gli altri rischi vi sono in qualche modo connessi e cerchiamo di capire perché partendo dal rischio volatilità. Nel momento in cui acquisti un titolo di Stato, magari lo fai all'emissione quando ci sono appunto i BTP riservati agli investitori privati successivamente vedi il tuo titolo negoziato in borsa e quindi vedi un prezzo che cambia ogni giorno. Molti non lo sanno e non controllano. Qualcuno un po' più attento rispetto a questi temi magari ogni giorno va a vedere il prezzo del suo BTP e da lì cerca di farsi un'idea generale su come sta andando il suo investimento. Si tratta di un'operazione sbagliata in realtà perché non dovresti farlo dovresti aspettare la scadenza e prenderti le cedole però il rischio volatilità è un rischio che c'è perché ci possono essere eventi esterni anche avversi che portano il valore del tuo investimento a oscillare certe volte in maniera anche significativa potrebbe aumentare in maniera importante o anche diminuire in maniera significativa. Pensiamo a quello che è successo nel 2022 quando l'aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali ha portato alcuni BTP a perdere anche il 40% del proprio valore. Chiaramente è un rischio perché se avevi acquistato con l'intenzione magari di rivendere prima potresti essere preoccupato perché vedi il tuo investimento perdere di valore anche in maniera importante. Quindi adesso che abbiamo capito il rischio volatilità capiamo il rischio tasso di interesse che in realtà vi è connesso perché il rendimento delle obbligazioni soprattutto quelle statali è legato in maniera molto stretta alle politiche delle banche centrali a seconda di quello che viene fatto dalla Banca Centrale Europea nel nostro caso quindi o che i tassi vengano aumentati o che i tassi vengano diminuiti cambia il valore sul mercato secondario dei titoli già emessi o cambiano anche le cedole magari che vengono attribuite ai nuovi titoli in emissione. Il rischio tasso di interesse è quello un po' più difficile da vedere perché lo misuriamo quando noi abbiamo sottoscritto un investimento blocchiamo il capitale per un certo numero di anni e un cambiamento appunto dello scenario dei tassi di interesse può rendere alcuni investimenti più redditizi di quello che abbiamo realizzato noi solo che in certi casi non possiamo uscirne se non subendo una perdita e quindi il nostro capitale resta lì immobilizzato e possiamo dire abbiamo perso un'occasione. Tante volte questo rischio potresti non vederlo perché semplicemente ti prendi le cedole arrivi a scadenza ti restituiscono il capitale e in realtà neanche lo sai che hai perso delle occasioni però diciamo che è uno di quei rischi che in finanza viene considerato. Va detta una cosa importante rispetto al rischio tasso di interesse nel momento in cui sto registrando tutti si aspettano una riduzione dei tassi quindi in realtà qui sottoscrive per esempio un'obbligazione oggi con un tasso fisso probabilmente bloccherà un tasso migliore delle nuove obbligazioni di pari rischio che potrebbero essere emesse tra qualche anno questo ovviamente senza considerare eventi estremi che possono in qualche modo cambiare anche in maniera drastica il panorama nel quale ragioniamo. Last but not least c'è il rischio emittente che è quello probabilmente più importante che cos'è il rischio emittente? Misura la possibilità che il nostro interlocutore cioè l'entità che ha emesso l'obbligazione lo Stato italiano possa non restituirci soldi in tutto o in parte. Praticamente questo è il pericolo di default cioè si teme che l'Italia a lungo termine possa essere impossibilitata almeno parzialmente nell'onorare i suoi impegni. È un'ipotesi che non è mai successa ma secondo qualcuno più pessimista potrebbe verificarsi in virtù di un principio molto semplice il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lurdo nel mentre sto registrando ha raggiunto il 140%. I parametri di Maastricht che sono un po' i riferimenti che ci siamo dati a livello comunitario quando abbiamo costituito l'Unione Europea prevedevano nel lontano 1992 il 60%. Noi siamo al 140%. Capisci benissimo che qualcuno potrebbe dire ma ce la farà l'Italia con tutti questi debiti a mantenere la spesa pubblica a mantenere un tasso di crescita accettabile e quindi pagare i suoi creditori? Questo aspetto è sotto la lente di ingrandimento degli investitori e lo sa benissimo anche il governo italiano che non a caso dal 2022 in poi ha cercato di chiamare a raccolta i propri cittadini gli investitori privati proponendogli diverse emissioni di titoli di Stato la razza probabilmente di questa politica è quella di ridurre per quanto possibile il peso specifico degli investitori istituzionali scaricando sostanzialmente il problema sugli italiani quindi se le cose dovessero andare male per il governo o chi per esso sarà molto più semplice lavare i panni sporchi in famiglia piuttosto che andare a discutere con i creditori internazionali ma perché questi creditori internazionali sono così preoccupati del futuro dell'Italia? Il nostro paese purtroppo presenta una serie di problemi strutturali che non depungono a suo favore nel lungo termine il primo problema più grande l'elefante nella stanza di cui si parla pochissimo è l'invecchiamento della popolazione il trend ci accomuna a tutti i paesi occidentali ma in Italia l'invecchiamento della popolazione è più significativo che altrove e questo già adesso si sta riflettendo sul mercato del lavoro pensiamo che nel mentre sto registrando in Italia lavorano circa 23 milioni di persone e l'Istat sta celebrando questo dato anche in maniera positiva ci sta dicendo questo è un record non ci sono mai stati così tanti occupati peccato che però per 23 milioni di lavoratori abbiamo già adesso 16 milioni di pensionati e tutti quanti gli altri che fondamentalmente non fanno nulla cioè non sono né in pensione e ne lavorano con le proiezioni che vengono pubblicate periodicamente da Istat Banca d'Italia e IMS siamo certi che il numero di pensionati non potrà che aumentare e il numero di lavoratori non potrà che diminuire ciò comporterà un aumento significativo della già pesantissima spesa pensionistica l'Italia spende circa il 16% del prodotto interno lurdo per la spesa pensionistica e già adesso non tra 50 anni per pagare le pensioni non bastano i contributi previdenziali ma bisogna far fronte alla fiscalità generale cioè alle imposte e le tasse che vengono pagate dai cittadini per altre finalità con l'incremento della spesa pensionistica e la riduzione dei lavoratori che possono essere tassati diventerà sempre più difficile mantenere in piedi la previdenza ma non solo con una popolazione che invecchia la domanda di prestazioni sanitarie sarà sempre più importante e pesante sulle finanze statali e considerando che viviamo nel mondo cosiddetto civilizzato che ha accettato l'idea del welfare e soprattutto delle cure sanitarie gratuite per tutti questo vorrà dire per forza inevitabilmente un incremento delle spese per sostenere appunto questa domanda che inevitabilmente crescerà a ciò si aggiungono una serie di fattori che purtroppo rallentano la crescita dell'economia perché oltre ad avere meno lavoratori in chiave prospettica quelli che abbiamo in questo momento non sono in certi casi abbastanza qualificati o abbastanza scolarizzati per poter rispondere alla domanda che c'è da parte delle imprese il cosiddetto mismatch tra scuola e lavoro in più le imprese stesse hanno problemi perché in tanti casi sono troppo piccole non abbastanza capitalizzate quindi non possono pagare bene i propri lavoratori c'è malcontento generale a ambo i lati imprese troppo piccole e forza lavoro poco qualificata producono l'arretramento generale dell'economia è il motivo per cui abbiamo relativamente poche aziende italiane grandi anche all'estero e tante aziende estere che però vengono nel nostro mercato e in certi casi acquisiscono anche le nostre imprese però spostando altrove praticamente il controllo perdiamo anche posti di lavoro di qualità perdiamo imposte perdiamo gettito fiscale per lo stato e quindi tutto questo produce preoccupazioni circa la capacità del bilancio statale di essere sostenibile a lungo termine tutti questi fattori messi insieme ognuno con un suo peso specifico limitano le potenzialità future del nostro paese e preoccupano così tanto soprattutto gli investitori istituzionali e tutti quei soggetti che periodicamente mettono in allarme il governo italiano circa la necessità di fare delle riforme giuste o sbagliate che siano queste riforme l'oggettività dei fatti è questa tralasciando gli aspetti politici che non ci interessano in questa sede chiediamoci da un punto di vista chiaramente utilitaristico che cosa fare circa le possibilità di un reale default dell'Italia ho girato un video che trovi qui in descrizione e che ti metterò accanto in maniera molto sintetica tutti questi fattori di rischio per me sono credibili e sono reali probabilmente la situazione peggiorerà non necessariamente l'Italia farà default ma molto probabilmente la spesa pubblica sarà tagliata in maniera importante quindi tradotto meno pensioni meno sanità e meno in generale servizi da parte dello Stato perché non ci saranno i soldi difficilmente l'Italia farà un default vero tipo quello argentino per capirci secondo me perché può contare ancora su un patrimonio importante dei propri cittadini e su questo tema ti invito a guardare un altro video che ho fatto recentemente circa la patrimoniale e può contare su un'economia che per quanto falcidiata in qualche modo riesce ancora a stare in piedi perché noi italiani siamo molto bravi a piangerci addosso e parlare male però quando facciamo le cose in certi casi le sappiamo fare ancora molto bene in più mettiamoci il fatto che siamo nell'Unione Europea e l'Italia è considerata too big to fail cioè è considerata un paese troppo grande per poter fallire le istituzioni comunitarie sicuramente attenzioneranno gli sviluppi provenienti dal nostro paese quindi non ci aspettiamo un tumfo enorme ma sicuramente potrebbero esserci dei problemi e la domanda che ci dobbiamo porre è che possiamo fare noi privati cittadini la risposta più semplice è quella che molti non vogliono accettare è diversificare cioè non impiegare tutti i tuoi capitali sui BTP in maniera diretta o indiretta che vuol dire non investire gran parte dei tuoi soldi sui titoli di Stato italiani soprattutto se temi tutto questo e non li investire neanche in maniera indiretta magari prima compri polizze fondi obbligazionari e cose di questo tipo in banca poi non sei contento e compri i BTP per i fatti tuoi sappi che stai cambiando solo la copertina ma i tuoi soldi sono sempre allocati lì l'Italia vale il 2% della ricchezza mondiale cioè un mercato finanziario enorme e la cosa più semplice che noi possiamo fare è non investire tutti i nostri capitali solo sul mercato italiano sia esso il mercato obbligazionario quindi BTP ma va dello stesso anche sul mercato azionario vuoi comprare azioni italiane comprale pure ma non impiegare troppe risorse abbiamo visto casi di persone che arrivano anche ad avere l'80-85% del proprio patrimonio allocato sui BTP sulle azioni italiane e se ci mettiamo anche gli immobili che hanno sede in Italia direi che abbiamo fatto bingo questo è il consiglio più semplice è la cosa più ragionivole da fare nel medio-lungo termine se magari non l'hai fatto fino ad oggi questo potrebbe essere il momento per cominciare a pensare a una dismissione dove per dismissione intendo anche se hai BTP in scadenza semplicemente compri altro poi quando arrivi a scadenza non dico che devi vendere tutto anche perché questo è un video in cui parlo da uno a tanti però è il momento in cui cominciare a pensare a un'inversione di tendenza se hai agito nel modo descritto se invece vuoi investire sui titoli di Stato italiani perché magari hai visto le pubblicità abbi presente lo scenario di cui ti ho parlato guardati allo specchio e come diceva qualcuno si faccia una domanda e si dia una risposta io ti saluto con questo video in cui faccio un confronto tra i BTP e l'investimento in ETF che è il modo più semplice per effettuare una diversificazione a livello mondiale guardandolo potrai capire e toccare con mano cosa vuol dire quando dico diversifica a livello internazionale a presto ciao